Ciao da Apsim! Il giorno giusto per Leandro Paredes alla Juventus doveva essere ieri, prima ancora ieri l'altro, poi tre giorni fa e siamo arrivati ad oggi che ne mancano due, anzi tre, compresa la giornata di oggi alla fine del calciomercato, dai due giorni e qualche ora in questo martedì 30 agosto, domani la Juve scende in campo contro lo Spezia e Paredes non è ancora un giocatore della Juventus. Pare si sia andati avanti ad oltranza, fino a notte fonda, fino a tarda sera, quando magari può volare qualche bicchiere, speriamo che poi ci fossero gli autisti ad andare a raccogliere, andare a riprendere i dirigenti dopo la cena, le chiacchiere, vabbè, lasciamo stare questo per discutere con i dirigenti del Paris Saint Germain che intanto ha trattato l'acquisto di Fabian Ruiz definito dal Napoli e proprio l'acquisto di Fabian Ruiz sblocca da parte del Paris Saint Germain Paredes alla Juve, ma non c'è ancora l'accordo perché mancano alcuni dettagli. Il tempo stringe ma dovrebbe essere favorevole alla conclusione della trattativa perché, visto che manca veramente poco, alla fine Paredes dovrebbe essere un nuovo giocatore della Juventus. Nonostante non ci siano state le uscite che hanno sbloccato questa operazione, cioè il Paris Saint Germain da via Paredes appena dopo aver preso Fabian Ruiz, noi prendiamo Paredes senza sapere se riusciamo a liberare spazio a centrocampo. E dobbiamo parlare di questo perché infatti la maglietta Allegri Out, anche se sto parlando di mercato, perché? Perché la maglietta Allegri Out che trovate qui sotto in vetrina se la volete? Perché c'è Allegri dietro a tutto questo che sta decidendo tutto quello che riguarda la costruzione di questa squadra, ecco, e mi sembra che le decisioni che sta prendendo siano quanto meno discutibili. Ecco, che Juve resta dopo che Allegri ha fatto la sua lista della spesa che gli è stata poi portata a casa e tutta quanta sistemata negli scaffali? Vediamolo, ragioniamo un attimo su Paredes, ragioniamo anche su come si sta muovendo il Paris Saint Germain, che approccio sta avendo, anche rispetto a Paredes. Perché, per esempio, la scorsa stagione il Paris Saint Germain aveva preso Vinaldum gratis, adesso l'ha dato in prestito alla Roma in maniera molto più agevole di come sta cercando di dare Paredes alla Juve. Perché Vinaldum alla Roma è in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni non semplicissime. 50% delle partite ufficiali da parte di Vinaldum, che probabilmente senza l'infortunio le avrebbe fatte, e qualificazione alla Champions da parte della Roma. Cioè, abbastanza aleatorie. Il Paris Saint Germain non si è cautelato e tutelato affinché il riscatto facoltativo da parte della Roma fosse obbligo in maniera abbastanza semplice. Per Paredes, invece, lo sta chiedendo. Segno che, se Vinaldum torna al Paris Saint Germain, il Paris Saint Germain dice, vabbè, dai, abbiamo ripreso Vinaldum. Se Paredes ritorna al Paris Saint Germain, il Paris Saint Germain dice, no, sta ancora qui questo, per semplificare. Cioè, vogliono essere certi di venderlo. Perché questo? Considerando, tra l'altro, che Paredes già è stato, in qualche modo, soppiantato. Cioè, il Paris Saint Germain ha fatto già altri acquisti a centrocampo. Per esempio, Renato Sanchez. Adesso, appunto, Fabian Ruiz. Cioè, perché il Paris Saint Germain, dopo tre stagioni e mezzo, non vede l'ora, praticamente, di liberarsi di Leandro Paredes? Anche con lo stipendio importante che prende. Andiamo a vedere, allora, il suo storico, passando anche attraverso gli infortuni, ma soprattutto i numeri, cioè delle partite in campo. Quanto è stato titolare? Qual è stato anche il suo percorso? Come ci è arrivato Paredes al Paris Saint Germain? E perché l'acquisto da parte della Juve non può essere considerato un acquisto impellente, non può essere considerato il soddisfacimento di una esigenza inevitabile. Cioè, si può fare a meno di Paredes, come ne fa a meno il Paris Saint Germain, praticamente a cuor leggero, soprattutto se la Juventus è già fortemente intervenuta a centrocampo, tra acquisti e promozione in prima squadra di giovani che, e ne dobbiamo parlare, rischiano il posto e di essere sbolognati per l'ennesima volta. E quindi torno alla domanda, che Juve resta dopo che Allegri ha terminato la sua lista degli acquisti? Intanto, Leandro Paredes è nato a giugno 94, quindi 29 giugno, ha 28 anni, non è vecchio, è un giocatore che può ancora fare ottime cose nel calcio, e la formula di acquisto, per cui è in corso, dicevo, la definizione dei dettagli, dovrebbe essere di 5 milioni per il prestito oneroso, il Paris Saint Germain non ha preteso nulla per Vijnaldum, questo potrebbe anche significare che Paredes vale di più di Vijnaldum nell'ottica Paris Saint Germain, però, ripeto, non hanno insistito per un obbligo di riscatto con la Roma, praticamente certo, con 15 milioni, appunto, di prezzo per il riscatto da parte della Juve per Paredes, che la Juve vuole che sia un diritto con obbligo a determinate condizioni difficili. Il Paris Saint Germain vuole che sia diritto che diventa obbligo a determinate condizioni facili. Ripeto, non vogliono che torni Paredes al Paris Saint Germain. Tra l'altro, si parla di uno stipendio da 7 milioni netti, che con il decreto crescita, diciamo che siamo sui 10 milioni totali. Altri 10 milioni di costo a bilancio, un altro giocatore da 7 milioni. No, perché questo decreto crescita sta un po' rovinando tutto, diciamolo, soprattutto per come ne sta abusando la Juventus. Perché doveva servire per risparmiare soldi a bilancio, non per mettere a bilancio gli stessi costi, dando di più al giocatore. Cioè la Juve magari mette in conto di investire su un calciatore uno stipendio totale, quindi lordo, di 10 milioni. E dice, ah, col decreto crescita possiamo dargliene di più? L'hanno fatto stesso discorso con Di Maria. Allora, diamogliene di più, tanto non a noi ci costa uguale. Ma come a noi ci costa uguale? Non lo sfrutti così il decreto crescita. Ne approfitta il calciatore. Cioè sono soldi che invece di darli alle casse dello Stato per il beneficio della collettività, vengono date nelle tasche di un singolo uomo, che è il calciatore. Questa cosa non vi fa indignare? Non vi fa indignare, va bene. Però dovrebbe farvi indignare il fatto che adesso ci ritroviamo con Artur invendibile, diamo la colpa a Paratici. Diamo la colpa a Paratici. E adesso per Pogba 10 milioni con i bonus, più le tasse. Di Maria, a quanto sta? 7 milioni pure lui con il decreto crescita. Bremer, quanto gli diamo? 5 milioni. E adesso anche Paredes, 7 milioni. Nessuno si indigna? Cioè queste cifre, chi le ha decise? Paratici? Stanno continuando a fare la stessa cosa, a generare altri calciatori che saranno invendibili. Per questo dicevo che cosa resta della Juve dopo che Allegri avrà finito di fare la sua lista. E ancora, queste sono le cifre. Ma, dicevo, Paredes è cresciuto nel Boca, con la quale squadra però non ha giocato tantissimo, fino ai vent'anni che c'è stato. Trenta presenze, cinque golle, zero assist. Diciamo che forse avrebbe potuto fare un pochino di più e anche il Boca non è che l'ha considerato questo calciatore imprescindibile. Infatti l'ha mandato in prestito al Chievo da gennaio a giugno 2014. Poi nel luglio 2014 lo prelevò la Roma, inizialmente in prestito per una stagione. Poi lo riscattò, ma lo girò immediatamente in prestito all'Empoli per un'altra stagione, trattenendolo nuovamente al rientro per la stagione 16-17. Quindi con la Roma ha giocato nella stagione 14-15, 16-17 con 54 presenze e 4 golle e 2 assist. Nell'Empoli nella stagione 15-16 con 33 presenze e 2 golle e 1 assist. E poi la Roma, dopo averlo pagato circa 7 milioni, nel luglio 2017 lo acquistò lo Zenit dalla Roma per 23 milioni. Con lo Zenit ha giocato 17-18 e 18-19 con 61 presenze e 10 golle e 16 assist. Il meglio che ha fatto a livello di golle e assist per poi trasferirsi nel gennaio 2019. Quindi in realtà ha giocato anche un po' di 18-19. Nel gennaio 2019 trasferirsi al Paris Saint Germain per 40 milioni, dove ha giocato metà 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 e 4 presenze di questo 22-23 per un totale di 117 presenze, 3 gol e 10 assist. Tra l'altro in questa stagione 22-23 ha giocato 4 partite fornendo un assist con 0 gol, ma ha giocato fin qui solo 61 minuti, un'ora, cioè è sempre subentrato. E quindi vediamo anche come è stato impiegato nel Paris Saint Germain. È stato un titolare del Paris Saint Germain, Paredes? Lo è della nazionale argentina, 44 presenze, 4 golle e 5 assist, con una percentuale di titolarità, cioè presenze dall'inizio su presenze totali, dell'86%. Ma nel Paris Saint Germain, tolto quest'anno che è titolarità 0%, perché è sempre partito dalla panchina in queste prime quattro presenze, vabbè diciamo che hanno deciso di mandarlo via, quindi è ai margini. Nella stagione 21-22 68% titolare, con 1246 minuti. Nella stagione 20-21 2.563 minuti e 86% da titolare, come in nazionale. Nella stagione 19-20 54% da titolare, con 1748 minuti all'attivo. E nella metà della stagione 18-19, da gennaio a giugno, che ha iniziato la sua esperienza al Paris Saint Germain, 73% da titolare, con 1577 minuti. Quindi praticamente stiamo andando a prendere uno che al Paris Saint Germain ha sempre fatto quasi la riserva, tranne nella stagione 20-21, che è stato prevalentemente titolare. Il tutto anche a causa dei soliti infortuni, che se non ce li hai, la Juve non ti prende. Paredes in realtà non ha avuto tanti infortuni di recente. Da quando si è trasferito al Paris Saint Germain, ne ha avuto uno alla caviglia. Aveva avuto anche problemi precedenti ai legamenti della caviglia, quando era lo Zenith. Quindi ha avuto un problema a una caviglia. Dopodiché però, nella stagione scorsa, 21-22, ha avuto ben quattro infortuni muscolari. O tre più un ritardo di condizione, che comunque lo possiamo considerare muscolare, nel senso generale, ma vogliamo toglierlo. Ne lasciamo tre, che sono tutti degli ultimi mesi, anche del 2022, quindi molto recenti. Paredes, da questo punto di vista, ha smesso di giocare con il Paris Saint Germain ad aprile. Poi è stato infortunato, finito la stagione. È infortunato Paredes. E poi si è ripreso nella preparazione estiva e adesso sta giochicchiando. Quindi non è neanche un giocatore in condizioni. Lo vai a prendere, con lo Spezia, ovviamente, salta. Poi lo metti con la Fiorentina, perché Allegri chiaramente lo farebbe giocare titolare. A Firenze, una partita molto delicata, con Paredes, che non conosce la Juve, non conosce Allegri, conosce poco i giocatori di Maria, d'accordo, ma poi il resto, quelli a cui deve passare il pallone, non sa chi siano. Ha fatto pochissimi allenamenti. Non è probabilmente in buone condizioni. E poi abbiamo, dopo pochi giorni, il Paris Saint Germain. E secondo voi Paredes, eventualmente titolare a Parigi contro il Paris Saint Germain, farebbe un figurone? Io ho qualche dubbio. Perché si ritroverebbe a giocare contro una squadra nella quale comunque era a suo agio in una squadra nella quale ancora non è a suo agio. Nel suo ex stadio, anche con addosso, visto che tra l'altro si trasferirebbe in prestito, con addosso le aspettative o comunque l'ansia da prestazione soggettiva, perché se dovesse fare una brutta prestazione, davanti ai suoi ex tifosi farebbe una doppia o tripla figuraccia. Quindi anche questo, vai a prenderlo al penultimo o ultimo giorno di mercato. Chi? Un regista, che è l'unico giocatore che devi assolutamente comprare per primo, insieme forse a un difensore centrale, ma neanche dopo che ha iniziato il campionato, nell'ultima settimana, no, proprio l'ultimo giorno, l'ultimo giorno, e non è neanche uno che brilla per condizioni atletiche, non è neanche uno che sprizza energia da tutti i pori, è uno che mi sembra, ripeto, da recuperare dal punto di vista fisico. E tutto questo perché? Perché Allegri vuole Paredes, perché Allegri vuole il regista, perché ritiene di non avercelo il regista. E no, infatti, Rovella cos'è? Artur cos'è? Ma lo stesso Fagioli. E di questo anche dobbiamo parlare, perché il centrocampo della Juventus 21-22 era composto da Locatelli, McKennie, Rabiot e Artur, con Bentancur sostituito da Zaccaria. E già c'è stata una innovazione nel corso della stagione. Ramsey, che iniziò il regista nella preparazione estiva, fu presto messo fuori rosa. Quindi abbiamo avuto cinque centrocampisti. Poi, verso la fine, si è aggiunto Miretti, ma non conta perché ormai lo scudetto era andato, il quarto posto l'avevamo preso, e non ha fatto neanche tantissimi minuti. Quindi abbiamo fatto tutta la stagione con cinque centrocampisti, con l'alternanza Zaccaria e il posto di Bentancur. Adesso dovremmo fare la stagione con sette centrocampisti, ma con tre novità. Quindi quattro su cinque restano, cioè se ne va Artur, e se ne va Artur perché Rabiot alla fine non si è capito se davvero se ne doveva andare, o doveva comunque restare, se è stata una montatura o non è stata una montatura, e perché non sono riusciti a vendere McKennie e o Zaccaria. E poi gli altri quattro quindi restano, e si aggiungono Miretti che a tutti gli effetti sarà tra i titolari, Paredes se arriva, e Pogba che però è infortunato. Quindi il centrocampo già è cambiato tantissimo, ma sarebbe cambiato comunque nel numero di elementi, se al posto di mandare via Artur e prendere Pogba, ma soprattutto prendere Paredes, ci fossimo tenuti, oltre a Miretti, Fagioli e Rovella. Perché? Perché dobbiamo dare via Fagioli e Rovella, che sono due centrocampisti assolutamente validi e giovani per andare a prendere un 28enne che non è neanche tra i top d'Europa? Cioè stessimo andando a prendere un centrocampista che ti cambia la vita, io direi va bene, ma non è così. È un centrocampista che, vi ripeto, al Paris Saint-Germain non vogliono più, è uno scarto del Paris Saint-Germain. Così come Pogba è uno scarto del mondo del calcio, perché Pogba non l'ha voluto nessuno, ora che lo siamo andati a prendere. È uno scarto del calcio, non del Manchester United, e Di Maria era uno scarto del Paris Saint-Germain, ma in maniera diversa, perché all'età che ha ci può stare. Non è che il Paris Saint-Germain ha detto sei scarso, non ti vogliamo più. Semplicemente hanno detto abbiamo altre priorità, puoi andare. Ma comunque lo siamo andati a prendere che praticamente era senza squadra Di Maria. Era di fatto senza squadra. Poi lui ha preferito la Juve ad altre opzioni, aveva delle offerte, ma Pogba è uno scarto, letteralmente uno scarto. Paredes è un altro scarto che andiamo a prendere. E noi per andare a prendere questi scarti creiamo altri scarti. perché Rovella diventa uno scarto visto che costa 5 milioni all'anno di ammortamento con altri 10 milioni residui perché ha un contratto di altri due anni con la Juventus pagato 18 milioni più 5 di bonus più anzi forse 8 di bonus di cui una parte già maturati al Genoa e lo mandiamo in prestito secco ad un Monza che non so se riuscirà a salvarsi e che tipo di calcio intende proporre con stroppa ma che comunque al centrocampo ha già i suoi elementi simili a Rovella. C'è Filippo Ranocchia che è nostro quindi già solo il fatto di mandare due giocatori in prestito secco alla stessa squadra nello stesso reparto pensate che geni che sono pensate che geni che sono si fanno concorrenza da soli in più c'è Sensi che hanno preso in prestito e poi c'è Barberis che è di loro proprietà e ci sono anche altri perché stroppo chi per lui dovrebbe far giocare Rovella in prestito secco invece di gente che è di proprietà del Monza o che aspirano ad acquistare a titolo definitivo tipo lo stesso Sensi perché non è detto che Rovella faccia il titolare molto più probabile che lo faccia Fagioli e Lacremonese e a me fa piacere che Fagioli vada alla Cremonese perché Lacremonese con Alvini gioca un grande calcio Fagioli conosce la Cremonese e il calcio che gioca Alvini secondo me sarebbe perfetto per Fagioli un calcio offensivo, propositivo di pressing alto però anche lì prestito secco costo zero di Fagioli perché è cresciuto nella Juventus dopo che lo hai illuso facendogli firmare un rinnovo fino al 2026 e giustamente adesso l'agente d'amico di Fagioli che evidentemente non si chiama Branchini non si chiama Branchini che è invece il procuratore di Miretti si lamenta pubblicamente dicendo ci hanno illusi perché le premesse erano che la Juve avrebbe voluto far crescere questi giovani e dove sta? invece vengono mandati via perché è più facile mandare via dei giovani che gente che prende 5-6 milioni ma possiamo ancora dire che è colpa di parati ci stanno continuando a fare anche peggio invece di elargire 5-6 milioni a destra e a manca ne stanno elargendo 7-8 facendosi forza col decreto crescita che ripeto diventa a un certo punto un giochino un giocattolino in mano ai potenti in mano ai ricchi per farci cosa? per abbassare i costi? no per spalmarli diversamente ma mantenere gli stessi costi alla fine con altri futuri scarti come Arthur come Arthur che saranno invendibili ma io dico nel momento in cui riesci a vendere Arthur va bene hai venduto Arthur non sono d'accordo avrei preferito tenermelo avrei preferito tenermi lui tenere i fagioli tenere Rovella oltre che Miretti ma sei riuscito a venderlo bravo ma se Arthur ti diventa un corpo morto per tutta l'estate lo metti fuori Rosa e non riesci a venderlo ma reintegralo perché dobbiamo mandarlo via e forse neanche ci riusciamo forse va allo Sporting forse va al Nizza la Juve paga l'intero ingaggio per un'operazione in prestito che non si sa neanche se lo riscattano cioè un altro Ramsey hanno creato un altro Ramsey con la differenza che Arthur non aveva problemi fisici ricorrenti in questo momento è un giocatore validissimo perché ce ne dobbiamo privare chi l'ha detto che Paredes è più forte di Arthur ma dove sta scritto che Paredes è più forte di Arthur in base a che cosa e Paredes ti costa di meno anche se lo stipendio è più alto di quello di Arthur ma appunto con quello che ti costa Arthur o lo riesci a vendere bene oppure sei costretto a tenertelo colpa di paratici o meno di chiunque sia la colpa te lo devi tenere perché Arthur costa ancora 16 milioni all'anno con 47 ancora di ammortamento 45-47 milioni ancora di ammortamento da sostenere e lui prende 5-6 milioni netti col decreto crescita che nessuno però senza il decreto crescita all'estero si vuole sobbarcare cioè stiamo continuando a distruggere questa è una strategia di distruzione controllata della Juventus che cosa resta alla Juve dopo che Allegri avrà distrutto tutto? nulla restano i cocci restano giovani sbolognati a destra e a manca a non giocare perché alla Juve giocherebbero poco ma perché giocherebbero poco? perché Allegri non vuole farli giocare non li vuole far giocare lui decide che non sono validi e dopo dice ma qui giocherebbero poco cioè si crea l'alibi la scusa per mandarli via perché non li vuole perché non gli piacciono e questo sarebbe un bravo allenatore? questo sarebbe un bravo allenatore? questo sarebbe uno che si permette di farsi beffe di un allenatore suo collega che alla Juve lo scudetto lo ha vinto dicendo che tutte le squadre sono allenabili dichiarazione di Allegri se non sbaglio di settembre 2021 tutte le squadre sono allenabili le sue squadre non sono allenabili o lui non è in grado di allenare perché continua a fare richieste su richieste su richieste quindi avrete capito che io sono fortemente contrario a Paredes ma nello stesso tempo non vedo l'ora che arrivi perché non vorrei che dopo tutto quello che ha preteso e ottenuto Allegri sfasciando questa squadra e contribuendo con una dirigenza ben poco avveduta a creare altri futuri scarti a fare altre operazioni negative avesse anche il coraggio di frignare e di fare dei piagnistei nel corso della stagione creandosi degli alibi vuole Paredes prendeteglielo portateglielo dopodiché però deve star zitto e se non è in grado di allenare questa squadra e con Paredes Di Maria Pogba Kostic Milik Bremer la squadra non funziona allora la colpa sarà sua inesorabilmente come è già sua però a quel punto crolleranno tutte le scuse tutte le difese tutte le giustificazioni dell'ingiustificabile e verranno meno tutti gli alibi non vedo l'ora non vedo l'ora che Paredes sia un nuovo giocatore della Juventus capite cosa intendo dire in questo momento il mercato della Juve sta andando nella direzione esclusiva delle volontà delle esigenze delle pretese di Allegri come se fosse davvero una lista della spesa e dei giochi da acquistare da mettere sotto l'albero ma speriamo che Allegri all'albero di Natale non ci arriva sulla panchina della Juventus grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti su Paredes Artur Fagioli Rovella Miretti il centrocampo della Juve e tutto quello di cui vi ho parlato mettete like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti sulle ultimissime operazioni di mercato ma soprattutto sul calcio giocato infatti se vi abbonate al canale a partire da solo i 99 centesimi al mese tra gli altri vantaggi potrete avere anche l'accesso esclusivo alla chat live dei miei post partita della Juventus tra cui quello di domani post Juventus Spezia oltre a tanti altri vantaggi per esempio l'accesso full a tutte le chat sul mio server Discord ci vediamo molto presto e sempre forza Juve a tutti i nostri vantaggi a tutti i nostri vantaggi